Il tema della crescita è l'obiettivo irrinunciabile. Mi sembra che il tema della riforma del lavoro, ma anche in genere delle scelte che vengono portate avanti a livello europeo, abbiano un rischio. Io la penso, se possibile, molto diversamente dal punto di vista dell'idea di calare dal livello europeo delle scelte comuni nei diversi paesi. Faccio una considerazione anche collegata a quello che si immagina e si ipotizza da qui a breve, quello di un ministro delle finanze unico a livello europeo, che penso sia qualcosa che va evitata in tutti i modi, perché la ritengo una delle scelte peggiori, più sbagliate in assoluto, e temo anche che la questione collegata al mercato del lavoro, si faceva prima riferimento fra il sistema francese e quello italiano, dicendo che in Italia si è fatto qualcosa. In Italia sono fatte delle scelte che hanno visto finanziare una riforma nel mercato del lavoro, non appena questi finanziamenti si stanno interrompendo, i numeri della disoccupazione e l'efficacia di questa riforma cominciano a venire meno, quindi sarei anche prudente rispetto ad esprimere i giudizi che possono andare in questa direzione. Vedevo che annuiva quando parlava Barigazzi, perché? Rispetto certamente alla valutazione che veniva fatta sull'utilizzo delle risorse, piuttosto che in questo accordo che io personalmente non condivido con la Turchia, rispetto invece all'esigenza di intervenire concretamente, per esempio in Grecia o negli altri posti nei quali questo intervento deve essere realizzato. Quello di oggi è un episodio sul quale riflette, lo dicevate voi, noi stiamo andando incontro ad una stagione nella quale dei navi come quella di oggi ne arriveranno a decine e a centinaia e nulla c'entrano con coloro i quali scappano alla guerra, con i profughi di guerra, perché è un altro tipo di immigrazione questa. Che facciamo? Siccome si parla molto di destra xenofoba su questo, io voglio ricordare che l'Austria con un governo non certamente di destra ha deciso di compiere una scelta quella di alzare un muro al Brennero, che la Francia un anno fa con un governo di sinistra ha scherato i soldati a 20 miglia, che la Spagna qualche anno prima con un governo quale quello di Zapatero ha scherato i soldati al confine. Lo dico non per una polemica politica, ma per il reato del fatto che l'Italia non può in questo contesto lanciare degli spot, degli slogan, che è quello di accogliere comunque chiunque tutto fuori da un contesto della valutazione europea.